Musica Questa sarà la conferenza stampa più leggera per me perché poi faccio condurre la persona alla mia estrema destra che oso dire forse non ha bisogno di presentazioni però non è il primo che voglio presentare perché è come giusto che sia la persona al centro è colui che riceverà questa sera se non ricordo male il premio Maria Adriana Prolo ed è un... non vorrei dire troppo però è stato un giornalista, è uno scrittore, è un regista, è stato sceneggiatore insomma David Grieco qui al centro con me alla mia estrema destra Steve della Casa che forse se oso dire non ha bisogno di presentazioni oso, benissimo e qui accanto a me invece Caterina Taricano che è la direttrice di Mondo Niovo che ha dedicato un numero giusto monografico a David Grieco benissimo applauso a tutti questo applauso spontaneo ci riempie di gioia allora dicevo io mi sgravo di quelle... Steve vuoi partire tu? Che dici? beh molto molto volentieri mi fa molto piacere essere qua, mi fa molto piacere essere ancora una volta a fianco del mio amico David mi fa molto piacere che una delle migliori riviste di cinema che c'è in Italia oggi, Mondo Niovo gli abbia dedicato un numero monografico che avete ricevuto e che vedrete è un numero ricchissimo sia di interventi che sono interventi che vanno un po' oltre l'orticello finalmente rispetto a molte altre riviste di cinema insomma ci sono interventi internazionali, c'è una cura redazionale notevole poi c'è un materiale fotografico assolutamente divertente il sex symbol David Grieco ritratto in varie fasi della sua carriera quando faceva i provini come attore negli anni 60 quando girava con Pasolini e così via in realtà noi la mettiamo sullo scherzoso ma anche perché io e David siamo amici da quasi 25 anni insomma ci siamo conosciuti in Viale Mazzini in un pomeriggio di primavera dove ci hanno detto che avremmo potuto fare per tre mesi un piccolo programma radiofonico che non avrebbe avuto futuro quel programma radiofonico che esiste ancora oggi si chiama Hollywood Party sono appunto 25, quasi 25 anni che va in onda e se questo è avvenuto in realtà lo si deve al fatto appunto come diceva Bocchi all'inizio che Davide tante cose queste tante cose le ha riversate tutte dentro quel programma radiofonico io Davide l'ho scoperto un po' come un carciofo perché non è uno che parla in realtà tantissimo di se stesso però ogni tanto scopri che suo fratello non di sangue ma di vita è Malcolm McDowell scopri che è stato l'ombra di Pierpaolo Pasolini in un sacco di situazioni scopri che ha scritto forse più bel film interpretato da Francesco Nuti che Caruso Pascoschi poi fai con lui oltre alla radio anche qualcosa in televisione e scopri che per esempio lui riesce a individuare in mezzo a 50 possibili persone che facessero quello che in termini un po' dispregiativo ma in questo caso non lo era vengono chiamati le ballette scoprire una ragazza che poi diventerà Caterina Murino insomma e non una qualunque individuarla e capire che quella oltre ad essere una bellissima ragazza aveva delle capacità di essere appunto in grado di parlare, di dialogare, di ridere, di scherzare eccetera che è una caratteristica che secondo me fa sì che le persone dimostrino la loro intelligenza Caterina lo era e la scelta in questo modo allora il premio che viene dato poi Caterina forse lo spiegherà meglio è un premio che viene dato sia a una persona di cinema ma anche a una persona di cinema che abbia fatto anche altro nella vita che abbia un approccio personale particolare al cinema e alla vita e credo che Davi davvero lo sia io ho imparato molte cose lavorando con lui per esempio a fare radio io l'avevo fatta nel lontano 77 in una radio di movimento in cui c'era stata una lunga discussione su come dovevamo confrontarci con i proletari che ci telefonavano discussione che è crollata miseramente con la prima telefonata che abbiamo ricevuto dove un evidente proletario con accento meridionale molto marcato ci chiedeva se potevamo mettere una canzone di Simon e Telefunken e lì ho capito insomma che fosse una serie di sovrastrutture mentali che avevamo messo in campo andava messa da parte però la radio non era il mio pane e adesso è diventato il mio pane dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista proprio insomma che la frequento insomma credo un pochettino anche di saperla fare e questo è nato da Davi ma non è tanto questo che ho imparato da lui anche perché l'ha imparata anche lui live questa cosa da lui ho imparato una cosa molto importante cioè che bisogna avere la capacità i propri amici di usarli come amici non come dei trampolini per fare dei passi avanti in carriera Davide è uno che se li guardate se li rubate l'agenda trovate dei nomi di persone che hanno avuto e che hanno ancora un ruolo molto importante senza fare nomi non l'ho mai visto una volta usare questa agenda per cercare di fare un passo avanti in carriera per avere un posto una posizione un vantaggio un privilegio e così via questa è una cosa credetemi molto importante e devo anche dire che tutte le volte che lui ha il sospetto che qualcuno possa usare la sua personale o la sua di Davide agenda per fare una cosa del genere la sua reazione è come quella di un gatto quando gli butti addosso un secchio d'acqua insomma o peggio cioè dal punto di vista della rettitudine morale termine di altri tempi che però andrebbe ogni tanto tirato fuori è veramente stato un punto di riferimento da questo punto di vista un punto di riferimento in anni in cui questa rettitudine morale viene considerata un qualcosa di vecchio di passato di stupido di poco intelligente mentre invece è una cosa che ci serve veramente nella vita quotidiana per non diventare come le persone che vorremmo abbattere e questo è molto importante ne abbiamo molti esempi che posso anche evitare di farvi perché credo che ci arriviamo un po' tutti ecco questo credo che sia il vero motivo per cui Davide Greco è una persona come diceva prima Bocchi una persona che è difficile da definire perché ha una caratteristica al di là delle sue attività personali che è quella e della caratteristica che viene più fuori quando lo si conosce poi le risate che mi sono fatto con Davide Greco sono assolutamente notevoli vi posso per esempio citare una trasferta a Monte Carlo nella quale ci cambiavamo dentro il parcheggio per andare a fare il bagno in mare col risultato che io ho perso un calzino e la sera stessa finita questa cosa dovevamo presentare insieme una cosa sul palco di Sanremo credo che fosse se non vaderato Michael Naiman cioè non proprio un coglione insomma uno e io ho dovuto fare tutta la presentazione senza un calzino perché l'avevo perso in questa gita sciagurata a Monte Carlo insomma ci siamo fatti abbiamo fatto credo è la persona con la quale ho passato maggior numero di capodanni nei posti più diversi e con risultati sempre diversi ma anche sempre fragorosi dal punto di vista non solo dei decibel messi in atto ma anche del divertimento che fai a capodanno? ci manca poco non lo so quest'anno non lo so l'uno lavoro il 31 sono libero vediamo famo qualcosa buona sapere e basta così posso concludere ancora una cosa io ho provato i miei figli a farli diventare amici di tutti i figli dei miei migliori amici per esempio qui a Torino insomma dei miei amici hanno avuto figli ho cercato quando erano piccoli di collegali non ne hanno voluto sapere non ne hanno voluto sapere gli unici ragazzi con cui sono diventati amici sono i figli di David che intervengono devo dire in maniera veramente sorprendente dentro quella quella rivista che avete ricevuto e anche quello arricchisce la rivista stessa io ho finito di dire quello che dovevo dire e basta così devo dire che l'immagine simbolica del carciofo mi piace moltissimo perché sono sempre tutti spiattellati esibiti lì invece quelli da ovviamente quelle persone da scoprire poco a poco ma se tu ti ricordi se tu ti ricordi nel film Un dollaro d'onore a un certo punto Ward Bond vecchio rancero offre un pistolero giovane a John Wayne per aiutarlo perché come sapete in quel film John Wayne ha un problema con una banda di banditi che poi è un attore che fa anche il cantante Ricky Nelson lui poi dopo si unirà ma all'inizio dice no scusate non fa per me non ci vado Ward Bond ci rimane molto male lo dice a John Wayne dice ma come mi dispiace io speravo e John Wayne dice no guarda lo apprezzo perché è talmente bravo che non ha bisogno di dirlo ecco infatti no e poi la cosa la vostra avventura verso Sanremo non so perché ma mi ha fatto venire in mente l'avventura e l'avventura di Le Luce un po' voi due Aldo Maccione e Lino Ventura così ma è la prima cosa che mi è venuta in mente ma noi siamo una coppia ma veramente questo lo dico seriamente dal primo momento che ci siamo conosciuti e siamo andati in onda c'è stata una chimica che probabilmente abbiamo anche come dire dato ai nostri figli per cui lui possiamo cazzeggiare per 12 ore con dei tempi naturali tipo appunto Frank Ciccio non lo so Lewis e Martin a proposito io sono Martin un dollaro pur essendo astenio però mi sono sempre identificato lo sei il bocaccio no no chiede le lemosine proprio all'inizio del film lo trattano pure male non gli danno niente gli buttano le cose nella scutacchiera vabbè allora avete domande altrimenti io passo la parola a David avete domande non le vedo David allora la parola a te insomma un po' difficile perché io a casa mia non si festeggiavano nemmeno i compleanni insomma qui a parte che sono proprio di casa a Torino mi sento di casa mi ci sono sempre sentito forse pure questa è colpa sua insomma sono un po' in imbarazzo perché è chiaro che mi commuove quello che dice Steve mi commuove il taglio che ha questa cosa perché era anche l'unico taglio possibile perché appunto io non ce l'ho una carriera io ho tanti pezzettini di vita che poi stranamente improvvisamente si mettono insieme grazie a voi ma non sono mai stati insieme nel senso che ci sono persone che mi credono una cosa persone che mi credono un'altra cosa e sono varie cose nessuno ma nemmeno io nessuno è mai riuscito a mettere insieme tutto questo e questo da una parte che ne so secondo mia madre la mia sciagura perché appunto ho sempre lasciato i posti di lavoro e ogni volta mia madre ma anche mio padre dice oddio questo adesso che fine farà però dall'altra è anche la mia fortuna ed è una fortuna puramente anagrafica nel senso che in quegli anni lì parlo appunto dei favolosi anni 60 era talmente facile cercare e riuscire anche a mettere a fuoco i propri desideri e realizzarli che ci ho preso gusto e quindi ogni volta che poi una cosa diciamo mi riusciva o almeno qualcuno diceva che mi riusciva pensavo subito a farne un'altra perché dicevo vabbè questa cosa l'ho fatta più o meno non ho fatto una figura così poco dignitosa è andata bene adesso cerchiamo di farne un'altra ed è qualcosa che purtroppo credo ad aver trasmesso anche ai miei figli lui alludeva al fatto che ci sono in questa rivista anche le testimonianze dei miei figli e devo dirvi che ieri aprendola c'è caso che mi incrino un'altra volta ve lo dico subito sono rimasto veramente scioccato però sono felice perché fanno tutte e due cinema con una determinazione anche più forte della mia e questo è molto difficile perché appunto oggi queste possibilità non ci sono la famosa agenda di cui parlava Steve di cui sì effettivamente per me sono amici sono tutti quanti amici e quindi uno non si approfitta in alcun modo degli amici però proprio perché faccio parte di questa generazione qui ecco se fossi uno dei ragazzi che vedo qui che hanno magari 28-30 anni forse non lo so forse invece oggi ne approfitterei perché mi rendo conto che è talmente difficile per un giovane fare cinema oggi rispetto ad allora che forse ha necessità di cercare di tirare tutte le leve possibili e immaginabili ripeto per me è stata una fortuna tutto questo una fortuna non economica una fortuna di altro genere che mi dispiace mi dispiace ci sono tanti giovani in Italia e Torino è l'epicentro di tutto questo che fanno veramente tantissima fatica anche soltanto per essere individuati messi a fuoco e quindi insomma penso che dobbiamo aiutarli ecco in qualche modo quindi magari distribuisco numeri di telefono dopo usateli pure c'è agenda che a sto punto diventa peggio del sacro graal perché c'è a parte che poi lui ha un esempio un particolare sono quasi tutti morti più che l'agenda sembra quelle cose che firmi dai funerali insomma guardi mi ammazza c'ha tutti da Dreyer in avanti tutti amici suoi erano però sono morti tutti infatti poi quando mi hanno chiesto ma chi vuoi che dica qualcosa su di te insomma ha fatto un po' di fatica perché no questo no manco questo insomma è un po' un po' triste ma qualcuno vivo ancora c'è va bene Caterina ci dici qualcosa di Mondognovo tieni allora sarò breve perché insomma è meglio è più bello ascoltare i racconti di David e di Steve però quello che tenevo a dire in merito a questo premio è che noi tutti gli anni assegniamo questo premio nell'ambito del Torino Film Festival l'Associazione Museo Nazionale del Cinema e facciamo un numero speciale della rivista dedicato al premiato ecco la scelta dei premiati non è casuale non è che appunto ci riuniamo diciamo vabbè quest'anno a chi lo diamo a quello che ha fatto più film a quello che va più di moda no la scelta è sempre molto difficile ci sono discussioni quest'anno siamo stati tutti d'accordo così questo nome è venuto fuori e ogni anno noi cerchiamo come diceva Steve della Casa di assegnare questo premio a una personalità del cinema che si sia distinta appunto nell'ambito cinematografico ma che in qualche modo sia andata anche oltre e ci sembrava che Davide incarnasse pienamente questa nostra linea di pensiero e questo perché non soltanto perché ha attraversato il cinema su varie traiettorie e da diverse prospettive dando sempre un punto di vista molto originale ma perché in qualche modo è riuscito con la sua opera lui è stato appunto l'abbiamo detto giornalista lo è scrittore sceneggiatore e regista ad esempio di due film internazionali sia come cast che come argomento che ci sembrava rappresentasse molto bene un tentativo ahimè poco che si ritrova poco frequentemente di andare oltre le due camere cucina in cui spesso incappa il cinema italiano e poi perché ci sembrava che fosse erede di comunque un modo di fare il cinema di concepirlo lo si è detto anche poco fa in cui non c'era la paura di essere fregati no? Questo beh anche per ragioni anagrafiche perché era un tempo diverso lo abbiamo accennato probabilmente la famiglia oltre alla famiglia d'origine la famiglia più importante dal punto di vista artistico per Davide è stata la famiglia di Pasolini la crescita all'interno di un clima che insomma adesso a trovarlo un'opportunità di questo genere per cui ecco l'idea che in qualche modo potesse incarnare ancora un tipo di eredità che poi è stata elaborata in maniera come dicevo personale originale ci sembrava potesse essere una scelta veramente giusta e adatta soprattutto perché se è vero che un premio alla carriera in qualche modo istituzionalizza nella figura del premiato o il premiato stesso appunto come esempio per i giovani da seguire beh ecco una persona come Davide che ha cambiato tante vite e infatti l'intervista si intitola non a caso le tante vite di Davide tante vite all'interno appunto del cinema ma non solo che è riuscita a dare un respiro ampio a queste sue esperienze ci sembrava che potesse essere in questo momento molto lungo di crisi culturale di buco di contenuti che sta attraversando l'Italia ma non solo l'Italia davvero un esempio da seguire ma ci credo ci credo fermamente in questo quindi ecco per quanto riguarda il numero abbiamo pensato quindi di visto che lo scopo anche come associazione è quella di continuare in qualche modo una memoria che è la memoria non soltanto appunto del nostro orticello come diceva Steve ma di collegarci idealmente anche a quello che succede fuori abbiamo ogni volta con il premiato lavoriamo su dei numeri che in qualche modo possano concretizzare questo tentativo insomma di costruzione della memoria quindi abbiamo lavorato facendo una lunga intervista che è diventata un'intervista a fiume ma adesso non perché l'abbiamo fatta noi ma proprio per i contenuti che ci ha fornito David è veramente un'intervista molto bella in cui si ritrovano c'è un respiro di un'epoca che si alterna ad un'altra epoca e anche i cambiamenti sociali culturali non soltanto che hanno interessato il cinema e quindi insomma io trovo che sia anche molto divertente da leggere e poi abbiamo cercato di contattare quelli che sull'agenda non erano diciamo ancora recuperabili anche parlando appunto con David e sono molto orgogliosa anche del fatto che siamo riusciti a contattare Malcolm McDowell che è stato veramente molto disponibile felicissimo di poter collaborare e la sua testimonianza è molto bella ma così come quella di Alberto Crespi Angelo Badalamenti Lorenza Mazzetti che si ritrova poi anche nel corso dell'intervista che è stata una persona molto importante per David così come abbiamo ritenuto necessario coinvolgere e bello soprattutto coinvolgere i suoi figli non gliel'abbiamo detto ma è stata una sorpresa e poi appunto Martin Ciocas giusto che lui Ciocas Temina ciò che lo so è per quello perché mi ha già detto per telefono mi raccomando mi si dice Ciocas e Ciocas un giorno a San Sebastiano un giornalista gli ha detto tre volte appunto gli era storpiato e si stava alzando io ho dovuto dare un calcio nei sticchi e ho detto ma gli stai fatto che ha lavorato con Temere Vilenko sì no no proprio lui è malosissimo ma non c'è quindi ebbene sì però appunto siccome me l'aveva me l'aveva diciamo fatto notare per telefono ho detto speriamo di dirlo giusto infatti l'ho sbagliato e poi Massimo Ranieri Milena Vukotic insomma ci sono tante testimonianze interessanti soprattutto affettuose ecco quello che io ho notato che non sono solo testimonianze di collaboratori di lavoro ma sono testimonianze di amici e non è così scontato ecco quindi questo è quello che posso dirvi del numero oltre ad invitarvi questa sera a vedere la premiazione ma soprattutto il film e vi ringrazio insomma di essere venuti qui allora questa sera Massimo 3 20 e 30 premiazione Maria Adriana Prolo e Vilenco con il suo fratello non di sangue ma di vita come aveva detto Steve Marco McDowell e ovviamente grazie a David Grieco naturalmente grazie Steve grazie Caterina Taricano grazie a voi 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 grazie a voi